Un fallimento su tutti i fronti è solo il titolo del mini dossier presentato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle sul capitolo TUA, il trasporto pubblico abruzzese. Voce per voce i grillini hanno messo a confronto i numeri dell'anno precedente alla fusione delle tre società con il primo anno di gestione unica, quello che secondo le previsioni della regione avrebbe dovuto ridurre i costi e migliorare i servizi. Risultato? Milioni di euro di crediti non esigibili, il raddoppio dei costi di manutenzione dei mezzi, la riduzione delle cosiddette tratte sovrapposte con una perdita di oltre 600 mila euro di biglietti e poi l'evasione tariffaria pari a 200 mila euro. Con la comparazione dei dati viene fuori un quadro allarmante, infatti aumentano i debiti a dismisura della società TUA rispetto alle precedenti tre, GTM, ARPA e FAS, aumentano i costi, infatti si spende di più per pneumatici, per lubrificanti, per manutenzione del settore ferroviario, si spende di più per indennizi e assicurazioni. Un altro dato importante è che aumentano i crediti, crediti che la società TUA vanda nei confronti delle controllate, ma la cosa strana è che alcune di queste controllate hanno chiuso con un meno in bilancio, con grandi passività e quindi non potranno molto probabilmente mai ripagare TUA dei debiti che hanno. Non solo, hanno assulto tre nuovi direttori, un direttore generale, un direttore amministrativo e un direttore delle risorse umane con l'auti, dandogli l'auti compensi. Infine un dato, a fronte di un utile di 19.000 euro della società, la TUA ha speso 26.275 euro per un evento finalizzato alla presentazione dei risultati raggiunti dalla società. Questa è una gestione far alimentare, la politica regionale ha fallito sotto tutti gli aspetti. Noi proponiamo razionalizzazione dei costi, internazionizzazione di tutti i servizi che sono ancora all'esterno e potenziare l'officina perché è una delle più belle e più grandi d'Italia per aprirsi all'esterno, per servire anche il parcomezzo dei comuni, degli enti locali, delle società partecipate e incassare così soldi e poi fare una politica della mobilità coordinata con gli enti locali per disincentivare l'uso del mezzo privato e incentivare l'uso del pubblico.